Libera Università di Bolzano, la Facoltà di Scienze e Tecnologie amplia la sua offerta formativa grazie alla nuova laurea magistrale in Ingegneria Industriale Meccanica. Nel territorio provinciale la domanda di questi professionisti di medio-alto livello è maggiore dell'offerta ed è in continuo momento. La nuova laurea viene istituita perché c'è stata una forte richiesta da parte del territorio in termini di un ingegnere, un profilo magistrale in Ingegneria Industriale Meccanica con competenze di automazione e di logistica e anche a completamento della formazione attualmente disponibile che come ben sapete è legata attualmente a una triennale Ingegneria Industriale e a un ramo energetico quindi per questo andiamo a completare l'offerta formativa. La nuova laurea magistrale è stata progettata con l'obiettivo specifico di formare una nuova generazione di ingegneri in possesso di solide conoscenze nell'ambito dell'ingegnere industriale meccanica e negli ambiti a questa connessi. Il progetto è nato da una proficua collaborazione con l'Università di Magdeburgo. Questo nuovo percorso formativo è importante per l'Università perché va a completare un'offerta formativa che era costituita da una laurea triennale in Ingegneria Meccanica Industriale e da una laurea magistrale in Ingegneria Energetica. A questa si affianca appunto la nuova laurea magistrale in Ingegneria Industriale Meccanica che intende dare una risposta al territorio. Il corso di laurea magistrale prevalentemente in lingua inglese è suddiviso in due percorsi formativi, meccanica e automazione e logistica e produzione. La richiesta nasce da una domanda forte da parte degli industriali di un ingegnere formato sul territorio con un profilo internazionale anche trilingue e in tutto il processo e il percorso di accreditamento sono stati coinvolti e abbiamo avuto anche degli importanti impulsi su quelli che è il percorso formativo e quelli che potranno essere le attività comuni in termini di tesi o tirocini. Le iscrizioni alla nuova laurea magistrale in Ingegneria Industriale Meccanica, già iniziate, proseguono fino al 21 di luglio.